Cosa sto parlando? Beh ragazzi ormai tutti quanti ne parlano di questa nuova collaborazione in arrivo con tantissime nuove ricompense gratis e soprattutto probabilmente anche delle nuove skin nel prossimo Pass Battaglia 4 di Fortnite Infatti ragazzi qualche giorno fa è uscita la nuova stagione, l'ultima stagione di Stranger Things su Netflix e quindi per questo, come vi ho detto anche nel video di ieri, probabilmente Fortnite ci collaborerà ma questa non è l'unica cosa di questo video, parleremo anche di 5 nuove ricompense gratis appena giunto che non sono ragazzi quelle che vi dico ogni video ragazzi, sono nuove ricompense veramente assurde e riscattabili ora su Fortnite Innanzitutto mi raccomando, like in questo momento, iscrivetevi se non siete iscritti e codice creatore Naxx2x nel negozio di Fortnite e mi hanno killato in un modo veramente brutto Ma ora vado a salutare, come ormai in ogni video, un iscritto che ha shoppato qualcosa col codice NAXX e vi ricordo raga, Naxx2x nello shop, quindi ciao Daniele che ha shoppato questa fantastica mimetica Ora però parliamo delle cose che tutti quanti voi stavate aspettando, ovvero di tutti quanti i leaks sulle nuove ricompense segrete di Fortnite Intanto vi mostro questa immagine su Twitter che riguarda proprio appunto un concept della prossima collaborazione quindi diciamo un'immagine promozionale, ovviamente il concept non è reale al 100% ma è fatta da dei fan riguardo alla nuova collaborazione Fortnite X Stranger Things Ma ora abbiamo parlato di questa cosa, ora alla fine del video parleremo delle 5 ricompense gratis che vi ho detto prima Ma ora voglio dirvi un'altra cosa, ovvero perché non è uscito l'aggiornamento ieri Allora ragazzi questo video lo vedrete di mattina, la mattina del 6 luglio Quindi non so se ora che è uscito questo video è uscito anche l'aggiornamento il 6 luglio Però sinceramente, essendo che io lo registro il giorno prima Però sappiamo ragazzi che dato che ieri non è uscito l'aggiornamento dovrebbe uscire comunque prestissimo ragazzi O oggi che state vedendo il video oppure comunque domani 7 luglio Non si sa ancora ragazzi ma sicuramente vedremo il prossimo aggiornamento incredibile di Fortnite molto presto Like in questo momento se non vedete l'ora che ci sia l'aggiornamento e condividete il video a tutti quanti i vostri amici Però ragazzi voglio anche mostrare questa immagine riguardanti i nuovi skateboard Che potrebbero essere appunto le mimetiche che inseriranno per gli skateboard Perché questo? Beh ragazzi perché questi skateboard sono presenti su Fortnite come backpack lo sapete tutti quanti Però secondo me potrebbe esserci tipo una mimetica personalizzata che riguarda proprio questi 4 stili Ovviamente ce ne sono anche molti altri e questo è soltanto un esempio Magari i nuovi skateboard di Fortnite che verranno aggiunti presto potranno avere tipo le mimetiche della bananita, drift eccetera La ghoul e molte altre mimetiche incredibili Che già magari noi abbiamo sbloccato nell'armadietto Guardate raga io per esempio ho questo skateboard qua della ghoul e ci sono un sacco di stili Io ne ho pochi però raga guardate quanti ce ne sono Potrebbero essere questi i nuovi e le nuove mimetiche dei nuovi skateboard in arrivo su Fortnite Quindi raga veramente troppo hype Ovviamente ci saranno anche le moto nell'aggiornamento come ormai vi dico sempre Ma ora arriviamo a quello che tutti quanti voi volete Ovvero le nuove ricompense gratis che saranno aggiunte Anzi in realtà che sono già disponibili adesso Ma come si fanno a riscattare? Vi faccio subito vedere Ecco qua ragazzi queste sono le ricompense gratis Sono un backpack delle FNCS, uno spray, una schermata di caricamento e uno sticker E sicuramente mi chiederete ma come faccio a ottenere queste ricompense del mio armadietto gratis? Beh ragazzi sono dei drop Che potete ottenere Andate a guardare le live delle FNCS sul sito viola di Fortnite Quindi sul canale ufficiale Oppure anche su tutti quanti quei canali che hanno i drop attivi Per capire appunto come averle gratis Raga dovete andare sul sito viola Aprire una live di qualsiasi streamer Però nel titolo ci deve essere scritto drop attivi Che sarebbero i drop di queste ricompense Voi guardate tipo 30 minuti E vi sblocca queste 5 ricompense Ovviamente una alla volta Più guardate più ne sbloccate E soprattutto ditemi nei commenti se l'aggiornamento finalmente è uscito Se non è uscito tranquilli che uscirà domani Detto questo mi raccomando Codice Naxx Conduzione Shop Bella ragazzi Codice Naxx Conduzione Shop